La Dunata Nazionale degli Alpini, ospitata da Piacenza nel maggio 2013, aveva generato un indotto di diverse decine di migliaia di euro, con grande soddisfazione del tessuto economico locale. A distanza di cinque anni, il COA, Comitato Organizzatore della Dunata, ha chiuso definitivamente i conti del maxievento. Per gli Alpini è rimasto un utile di 89.000 euro, il 70%, circa 60.000 euro, resterà alla sezione di Piacenza, il 30% andrà alla sede nazionale. Ieri mattina il COA si è riunito per l'ultima volta alla Casa Cantoniera di Via Cremona. Il COA chiude brillantemente, anche da un punto di vista di risultato economico, come normalmente si fa in occasione di queste organizzazioni, perché grazie al lavoro volontario, grazie a molte economie di spesa, rimangono alla fine delle risorse. Risorse che comunque ritorneranno sul territorio, attraverso la sezione di Piacenza, attraverso la sede nazionale, perché possono essere impiegate solo e unicamente per il potenziamento della protezione civile, dice lo Statuto, e o un'opera sociale. Quindi ben venga aver operato in tutti questi anni, anche proprio per chiudere, bene, anche da un punto di vista economico, il risultato del COA. È stato un coinvolgere tutto il territorio piacentino e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Sono alquanto contento che tutti i piacentini, in maggioranza, e tutti gli alpini piacentini, abbiano accolto con grande enfasi, con grande amicizia, tutti gli alpini provenienti da tutta Italia e dall'estero. È stata meravigliosa. Proprio un momento fa parlavo con gli amici e abbiamo avuto diverse difficoltà in fase di realizzazione, ma non per colpa nostra. Però abbiamo superato. Infatti ho detto che se le stesse difficoltà le avessimo trovate in altre adunate, probabilmente non si sarebbero potute fare. Un esempio tipico. Lungo i bastioni si era un'area a campo. Con le piogge che ci sono state in quei giorni abbiamo dovuto far arrivare decine di camion con del ghiaino da spandere sul terreno per poter poi metterci le tende. I volontari sono fondamentali per un evento come la DUNA? Sicuramente sì, anche perché si erano instaurati degli ottimi rapporti con l'Associazione Nazionale Alpini e quindi abbiamo lavorato, abbiamo realizzato un certo numero di campi, tanti devo dire, e poi alcuni imprevisti tipo le piogge e quindi il dover smontare tutto quello che era stato realizzato sotto le mura e trasportarlo in fiera, insomma un po' di lavoro. La prossima adunata è in programma a Trento dall'11 al 13 maggio.